Madonna! Guardate, guardate le tende! Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno! Sono super in ritardo, buongiorno sto, buongiorno! Che schifo è? Ma cos'è? Ma no! No no, non ci siamo! 4 euro ho pagato sto schifo! Sono in autostrada e sto andando...eh che cacchio però! Sto andando a Gagliola in Toscana, prima di andare a Gagliola in Toscana per fare di nuova eroica quella di Gagliola in Toscana nel Chianti e nel frattempo vado a fare una cosa figa, probabilmente l'avrete già capito dal titolo, sono 5 ore e mezza di viaggio! Sto schiumando! Dove vado, vado, piove! Arrivato! Adesso è alla Conca, Ungi Cantone, Sant'Arsa Vallorsaglia, lei seguirà quella strada lì per un chilometro e 800 metri, finché vede il Green Center, che è un capannone di legno dove facciamo il cippato, va avanti poco per Vallorsaglia e poi segue il sentiero numero 1, dopo il rifugio c'è la casa sull'altro! Allora, mi sono super munito, oh donna mia se pesa, è venuta fame per un po', devo iniziare la camminata, non so che buone! Salve, vado su alla casetta, sì! Io devo andare lì, mi sa che ho fatto bene a prendermi gli scarponi! Allora, finalmente, intanto sono arrivato dopo 5, praticamente 6 ore di macchina e ho faticato veramente tanto anche perché a Bologna poi c'era il delirio, c'era un casino allucinante! Spero di non perdermi, mi aspetta un'oretta di cammino più o meno, ma cosa più importante, mazza quanto fango! Ho fatto tutto sto bordello perché è da quando sono bambino e penso un po' tutti, che sogno... sono fuori... sono fuori forma! Che sogno di dormire almeno, almeno una notte, almeno una, in una casa sull'albero! E allora mi son detto vado giù in Toscana verso l'Umbrio, perché da qua si vede anche l'Umbria, ma perché non andare a fare una cosa di questo genere e l'avevo già cercato e ne ho approfittato! Vediamo com'è sta casetta sull'albero, sono sul sentiero, a confronto le camminate a cui sono abituato e niente, però puoi solo arrivarci comunque a piedi e in mezzo al bosco non c'è il bagno, non c'è la luce elettrica, non c'è niente, ma solo l'albero è la vuesta! Sono già le 6 meno un quarto, sono arrivato un po' in ritardo! Tree House! Guardate che figo ragazzi il lago, che vista! Che vista che c'è! Guardate ragazzi, è piena di cinghiali! Era piena di cinghiali! Ok ora devo scendere giù di là! Ben segnalato ma... Questa parola è la segnalazione più bella! Ok... Mazza c'è il vento che tira! Comunque... Sono arrivato! Beh non male! Ma quella solo piccola così? Proprio così! Porcaccia! Ehm... Ce n'era di acqua! Vabbè! È minuscola! Allora mini tour subito della casa sull'albero! Quindi qui c'è il ponte per arrivare, quindi si arriva da qua, lì c'è il bosco da cui sono arrivato! Qui c'è, con una bottiglia d'acqua e un serbatoio pieno, la possibilità di lavarsi! Fai così! Tac! E poi ti lavi la faccia! Lì c'è della legna! E qua ovviamente c'è l'albero su cui è tutta appoggiata la struttura che a me un pochettino spaventa in realtà! Questo è un balconcino! Qua c'è un ramo che parte! Qui c'è la finestrella! È praticamente finita la storia qua! Qui c'è la stufetta! Fiammi farini per riuscire ad accendere la stufetta! Moka con caffè pieno! Quindi domani mattina posso farmi il caffè sulla stufetta! Questo è attaccato! Coltellino svizzero attaccato a una catena così non viene rubato! Poi scrivania con uno sgabellino che volendo fa da comodino! Ho anche le tendine e tutto quanto! Secondo me stanotte avrò freddo! Ho fatto una cazzata a non portare il suo capello! E niente questo è il letto! Bello bello duro! Ah comunque non ci sono ovviamente prese elettriche da tutte queste cose qua ma hanno portato corrente! Sono uno scemo potevo già accenderla prima! Mazza! Quanti ragni! Bello! Ok! Speriamo non ci sia uno zanzaro l'unica cosa che spero! Sono l'uomo più felice nel mondo! C'è ragazzi guardate che vista che c'è! Guardate che cielo là dietro! Mi sto affumicando! Mi sto affumicando! A farei per prima questa! Oh madonna mi sto intossicando! Mi sto intossicando! Ah mi sto bruciando tutti gli occhi! Lì fuori c'è lo sfiatatoio e entra con il vento che viene in qua e fa entrare il fumo che esce fuori dallo sfiatatoio da... Qui c'è il fumo che esce! Qui ci sono io e questa è l'altezza ragazzi! Guardate il fumo che c'è dentro ragazzi! Oh! Toglio solo lo zaino se no fumo da tutto! Ah il fumo non va via! Comunque quando c'è il vento balla tutto quanto! Fai proprio così! Balla tutto! Ma perché non mi sono portato il sacco a pelo tra l'altro? Cioè... Sono un idiota! Ma perché? Perché non mi sono portato il sacco a pelo? Oh! Minchia hai preso finalmente! Balla tutto! Madonna! C'è un tempaccio fuori! Mangio qualcosa va! Prima che croda la casa! Sono il solito! Mi metto lì qua da solo! E' andata via corrente! Non c'è corrente elettrica! Cioè c'era! Ma è collegata a questa batteria qua! Quindi... La batteria si è scaricata e io ora sono senza corrente! Volevo fare una cosa! Spegnere sta stufa! Voglio spegnere la stufa! Basta! Non vorrei incendiar tutto! Dato che sono su un albero! Su una casa di legno fatta su un albero in mezzo al bosco! Incendiamo questa perché è tornata un attimo la luce della batteria! Ma se va via! Ho la candelina! Ma perché mi fico sempre in queste situazioni? Fa paura...fa veramente paura! E oltre che far paura fa anche freddo! Madonna! Guardate, guardate le tende! Non lo consiglio con il tempo brutto! Stavo leggendo qua ragazzi! Proprio oggi... Oggi è il 3 ottobre! Perché c'è il maestrale a 80 km orari! 20 burrascosi! In particolare Toscana e Lazio! Ma sono uno sfigato! Sono uno sfigato! Va bene ragazzi! Sono le... 9 meno 20! E io vado a dormire! Cioè... Vado a dormire! Mi sto anche raffreddando! Vabbè! Buonanotte! Buongiorno! Penso che sono sempre più raffreddato e ho anche la dissenteria che ho appena fatto più o meno lì! Gabinetto in mezzo ai boschi! Vabbè di norma in queste... Io mi sono cagato addosso stanotte perché la casa ballava ed ero da solo, poi da sole sempre un'altra cosa C'è silenzio! E fa anche freddo! Ottobre fa freddo! In teoria qua, in questa casetta qua ci vengono anche i bambini perché l'agriturismo mette a disposizione questa casetta Ci sarebbero da migliorare un paio di cose ma qua viene proprio l'avventura quindi ci sono i vari rifugi eccetera Per quanto riguarda il servizio sotto non so come sia, cioè la signora era molto gentile Per quanto riguarda il servizio non lo so, non è una recensione di una roba, è un sogno che si realizza Volevo dormire in una casa sull'albero E la batteria collegata comunque a un pannello solare che sta qua sopra Che non è che prenda molto sole quindi è già un miracolo E poi la struttura è praticamente tenuta sopra in questo modo qua Però non è che sia a vedere, sembra c'è, come cacchio fai a dire? Sta su! Ah, e stanotte sono venuti giù anche gli alberi, gli alberelli Questa è la casa sull'albero Ce la vedete lì sopra, è particolare, è come cosa, è bella in alto Volevo farvi notare una cosa, quello a rispetto di quello, quello lì è staccato In ogni modo è fichissimo dormire lì dentro, è veramente fico, però fa paura se ci pensi Perché sarà lì su da anni per carità, è beeeelo È staccata rispetto a questa, dal supporto, vedete? Stanotte c'era tanto vento, va bene Comunque suggestivo e se ci fanno passare dentro le persone immagino che si possa stare Va bene, andiamo Ciao casetta Grazie per non essere crollata stanotte Ciao casetta Comunque situazione molto più wild di quello che pensassi È tutta proprietà privata, non si può venire così All'agliaccio, è tutta una collina da Sansepolcro Fatta tutta di piccoli borghi privati dove la gente viene a stare in vacanza E se vuoi ti danno l'opportunità di dormire nella casa sull'albero Però sempre appoggiandoti a loro, quindi non è come un bivacco in montagna Ecco se ve lo stesse chiedendo Comunque in giro è pieno di queste, chiamiamoli osservatori Penso che i bambini qua, in questo parco qua, verrebbero matti Va bene ragazzi, sono arrivato giù nel borghetto Il tutto si chiama la conca Tutto questo complesso qua che è veramente figo Siamo dai 410 metri di dislivello, anzi 550 Io sono arrivato a circa 900.000 E come potete vedere ci sono varie camminate da fare Cosa fa uno praticamente? Gli danno una stanza d'appoggio molto carino, rustico Ma carino, con piscina E praticamente sono tutti dei piccoli borghi Io ero nel borgo, io sono nel borgo Cungi, il primo Si possono fare escursioni a cavallo, secondo me si può venire anche in bici Io come vedete non ho usato il letto perché stanotte ho dormito là Però è questa la vista Per quanto riguarda la casa sull'albero La signora mi ha spiegato che inizialmente questa casa sull'albero Era stata fatta da suo marito Da suo marito per dormirci quando va nei boschi eccetera eccetera Poi piano piano le persone hanno iniziato a vederla A volerci dormire, a volerci passare anche solo mezza giornata Poi la notte eccetera l'hanno resa più sicura Tra l'altro il letto che avete visto, quello matrimoniale Alzandosi, non lo sapevo Si trasforma in letto a castello E' divertente, passarci una notte ci sta Se c'è il vento non vi spaventate Perché tanto regge tutto E anche quello è il bello dell'avventura Ne parlavo prima con la signora Serenella Che saluto E' lì che capisci che sei in mezzo al bosco In mezzo al nulla Senza bagno, senza niente eccetera Quindi capite almeno uno Come potrebbe vivere senza bagno Senza niente, senza acqua corrente Queste cose qua Va bene Vi saluto E' stato un piacere E ci vediamo alla prossima avventura Viva le case sull'albero Le stand back Le stand back Le stand back Le stand back Taino, beauty Tutto quanto che sa di fumo Ma tipo cacciotta Tipo cacciotta affumicata Ecco sono una cacciotta affumicata Vabbè ciao 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 Ciao